Sì, sono soddisfatto della mia prestazione e anche della prestazione dei miei compagni perché noi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte e anche se non abbiamo portato a casa dei punti abbiamo portato un risultato positivo a casa quindi è sempre positivo e poi sono soddisfatto anche della mia prestazione e dopo ho giocato. Quando uno non gioca deve dimostrarlo sempre, sia in settimana, sia domenica quando entra e sia quando è chiamato in causa. Io penso di aver fatto sempre il mio dovere, oltre ad essermi sempre comportato bene, di aver fatto sempre delle buone prestazioni, compreso domenica e quindi sono contento. Io penso come sempre a lavorare, non sono cose che riguardano me o che penso solo a lavorare, poi sto bene qua, ho un altro anno e mezzo di contratto e non penso a queste voci. Ancora dobbiamo vedere il Bari nei video o quant'altro, però sicuramente è un'ottima squadra, una squadra che è fatta per vincere il campionato e per portare a casa dei punti dobbiamo fare un'ottima prestazione. Se no non ne portiamo a casa punti perché sono una buona squadra, sono forti. Sicuramente in un'annata ci sono alti e bassi, noi siamo partiti come penso nessuno si aspettava benissimo e ci sono stati i bassi dopo e dobbiamo fare di tutto per tornare in alto e fare punti perché adesso è da tante partite che non vinciamo e dobbiamo vincere, che qualsiasi squadra ci capiti, che sia Bari, che sia Foggia, che sia Monopoli. Siamo sempre i soliti di inizio anno, inizio anno siamo partiti benissimo e tutti dicevano che potevamo stare là e adesso siamo sempre i soliti e dobbiamo cercare di fare, di fare, di stare, di stare bene, di fare punti per stare là perché possiamo, possiamo farlo. E noi siamo convinti di questo.